Terzo circuito della Riviera Apuana a memoria all'Arenato Pardini, la manifestazione riservata alla categoria Juniors che torna ad aprire il weekend di grande ciclismo sulla Riviera Apuana. Una organizzazione a cura del gruppo Staffette Versiglia Puano in collaborazione con la Montignoso Ciclismo e tante altre associazioni sportive che hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione come Ciclo Biglia e Resceto Cycling Cup. Una prova che vede alla via, lo vedete già da queste immagini, anche la nazionale italiana che schiera la partenza a quattro atleti, Alessandro Baroni, Luca Cretti, Davide De Cassan ed Edoardo Zambanini. Quindi sono presenti gli azzurri diretti da Rino De Candido ed una gara che si svolge su di un circuito che misura 3 km e 200 metri interamente pianeggiante alla periferia di massa e quindi verosimilmente una prova riservata alle ruote veloci del gruppo. Prima della via ovviamente la consueta firma del foglio di partenza da parte di tutti i 98 atleti alla via e una manifestazione questa voluta fortemente oltre che dal gruppo organizzativo, dal gruppo Staffette Versiglia Puano e dalla famiglia Pardini. Infatti si ricorda Renato Pardini in prima linea la figlia Maria ed il figlio Fabrizio che hanno voluto ricordare così la storica figura di Renato Pardini, storico direttore di corsa del ciclismo in terra massese apprezzato da tanti conosciuti che quindi non sono mancati nel voler ricordare questa importante figura del ciclismo massese. Quindi dicevamo il comitato organizzatore con il gruppo Staffette Versiglia Puano, la Montignoso Ciclismo, la cicloabilia, la Resceto Cycling Cup e tanti i contributi presenti ma uno su tutti mentre siamo alla partenza con Ferdinando Braconi che abbassa la bandierina del via assieme a Maria Pardini e a Luca Verona. A fianco a loro anche Piero del Bar Trattoria Pizzeria Oasi che ha ospitato le operazioni preliminari, ha ospitato gli atleti per pranzo in questa giornata che precede di 24 ore il via del trofeo Buffoni con partenza da Forte dei Marmi e conclusione a Montignoso. Quindi dicevamo una giornata dedicata verosimilmente alle ruote veloci ma sappiamo bene come la categoria Juniors possa sempre sorprendere. Quindi seguite con noi queste fasi di corsa prima del traguardo che sarà posto dopo 80 km. 325 i giri in totale per quanto riguarda questa prova che vede al via oltre alla già citata nazionale italiana anche il gruppo sportivo Stabbia, la Sidermec Fratelli Vitali, la Pity Shoes Ciclita Day, il Team Work Service di Romagnano, il Team Franco Ballerini 2C, la Big Hunter Beltrami TSA Sianese, la Fosco Bessi Cuspini, la Casano, la Zira Faguerciotti, il Team Mamma e Papà Fanini di Livorno, il Team Pieri Calamai, la Country Auto Zai, l'Unione Ciclistica Giorgione, la Valdarno Regia Congressi Seicom, la Borgomolino Rinascita Ormelle, la Ciclistica Armaditaggia, la Ciclissimo Bike Team ed il Veloclub Nuovarese. Queste le formazioni alla via per un totale dicevamo di 98 atleti alla partenza. Un circuito interamente pianeggiante con 4 curve a 90 gradi sulla destra, quindi verosimilmente dicevamo favorite le ruote veloci del plotone, ma seguite con noi queste prime fasi di corsa per poi avvicinarsi sempre di più alla finale di gara. E' questo un impegno organizzativo da parte del gruppo Staffette Versilia Puano e ben coadiuvate dal Montignoso Ciclismo, dalla Ciclo Abilia, dalla Resceto Cycling Cup, ma dai tanti sponsor che ovviamente vogliamo citare in queste fasi iniziali di corsa, come abbiamo già ricordato la Oasi, mentre intanto con il gruppo abbiamo percorso i primi giri ed il plotone è pilotato dalla Nazionale Italiana. Dicevamo abbiamo alla via tante formazioni di rilievo. Un ringraziamento anche a coloro che fanno parte del gruppo sportivo Turano, che sono presenti e che hanno permesso assieme a Ciclo Abilia, Shiking Club Resceto Cup, l'organizzazione, l'organizzazione tecniche che sono invece affidate alla Montignoso Ciclismo e alla gruppo Staffette Versilia Puano. Per quanto riguarda gli sponsor, ovviamente Oasi che ha ospitato le fasi iniziali della corsa, ma anche tanti sponsor che sono storicamente a fianco del sodalizio della Montignoso Ciclismo, come Oro in Euro ed ancora la Seven, costruzioni Cervaiolo in Ballaggi, quindi tante altre aziende che in tutto l'anno vanno ad investire a fianco del sodalizio guidato da Mario Ferrari, che quest'oggi affianca il gruppo Staffette Versilia Puano nell'organizzazione di questa manifestazione. Nel frattempo scatti sempre in testa al gruppo, qui vedete inquadrato con il dorsale 56 Fabio Malucchi, del team Franco Ballerino 2C, che guadagna qualche metro nei confronti del gruppo, un gruppo che per il momento ha lasciato davvero poco spazio ai tentativi di fuga che si sono susseguiti in questi primi chilometri, il gruppo che come vedete anche da queste immagini non sembra voler lasciare troppo spazio a Malucchi, sono gli uomini del team Work Service romagnano che stanno per chiudere assieme a quelli della Nazionale Italiana, presenti anche le maglie della rinascita Ormelle Borgomolino nelle prime posizioni, insomma tutte le formazioni più attese sono in testa al gruppo nel tentativo di tenere il plotone compatto in un sempre più probabile arrivo allo sprint per quanto riguarda questo terzo circuito della Riviera Puana, primo memoria all'arenato Pardini. E ricordiamo anche l'impegno di Cristian Ferrari, nipote di Renato Pardini che ha allestito assieme alla madre Maria questa manifestazione che ne ha curato l'aspetto grafico, l'aspetto tecnico e ovviamente la segreteria. Intanto con la corsa abbiamo un tentativo di allungo, si tratta del dorsale 78, Davide Arzà quando siamo al passaggio dal contagiri, il portacolori della Casano ha un vantaggio minimo comunque nei confronti del plotone, ma è questo fino a questo momento il tentativo di allungo più considerevole che siamo riusciti a seguire perché il plotone davvero ha lasciato pochissimo spazio a coloro che hanno tentato in vari momenti di allungare sulla testa della corsa. Il tentativo del portacolori del Casano, diretto quest'oggi da della Tommasina in Ammiraglia, che ovviamente prova ad anticipare i velocisti, certo che da solo non è sicuramente facile riuscire a tenere testa al gruppo, ma se qualcuno riuscisse a seguire il tentativo del portacolori della Casano, allora le cose potrebbero cambiare. Comunque lunghi rettiline e strade molto ampie, questo sicuramente un plus per la sicurezza della gara, ma sicuramente non lo è per Arzà che si trova con il vento in faccia e con anche dal punto di vista psicologico la possibilità per il gruppo di poterlo mettere nel mirino e quindi di cercare pian piano di raggiungerlo. Valentino Pessotto della Work Service Romagnano, assieme al dorsale di gara numero 53, Federico Conti del team Franco Ballerini, sono tra coloro che stanno adesso provando ad evadere dal gruppo. Abbiamo anche Lorenzo Ceccaroni della Cedermec, gruppo che comunque non è ancora organizzato nella caccia ad Arzà, come dicevamo da soli è veramente difficile mantenere un vantaggio nei confronti del Plotone, quindi probabilmente questa azione non impensierisce di troppo il gruppo che non vede ancora squadre organizzate nel tentativo di fare l'andatura in testa al Plotone. Ancora una curva a destra in questa fase, mentre cambia nuovamente la situazione, adesso c'è un drappello forte di 6 unità, vedete con il dorsale 48 Corzini, poi con il dorsale numero 109 invece è Palomba, abbiamo anche con il 14 si tratta di Mario Draghi, il dorsale 111 invece è il portacolori della Contri Autozai Giovanni Vito, l'ex tricolore della categoria lievi, con loro anche Marco Cao del Team Work Service di Romagnano, ma vantaggio davvero minimo di questi atleti nei confronti del gruppo, che sì, quando vede un tentativo come questo con 6 atleti a farne parte, a questo punto il gruppo non può lasciare molto spazio ad atleti che se ne vanno in un drappello molto numeroso come questo, ed infatti il gruppo torna nuovamente a chiudere, gruppo compatto quindi al termine di questa fase di gara, dopo il tentativo a 6 che abbiamo seguito nelle immagini precedenti, il gruppo torna a viaggiare compatto, quindi ancora niente da fare per coloro che stanno tentando in qualche modo di scongiurare un epilogo che verosimilmente sarà allo sprint, gruppo allungatissimo, adesso continuano gli schiatti in testa alla Plotone, c'è un'altra curva a destra che ci mette nel tratto di strada più stretto, quello più adatto sicuramente ai vari tentativi di allungo, e qui è Matteo Pellicciari della Contri Autozai, assieme a lui il dorsale 64, Daniel Quaglietti, l'aziale del biganter Beltrami sianese che però non riescono ad evadere dal gruppo e il Plotone adesso si torna ad occupare l'interasse destradale prima di un nuovo allungo, questa volta è il dorsale numero 3, si tratta di Davide De Cassan della Nazionale Italiana che coglie al balzo un'azione di un portacolori del Contri Autozai e si porta solitario al comando con qualche metro di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori pilotati dalle maglie della Work Service di Romagnano con Dennis Franceschini, quindi con il dorsale 129 abbiamo Sartori, con il 115 invece avete visto Campagnaro, poi dorsale 109 invece per Palomba ed il numero 10 si tratta di Filippo Cecchi dello Stabia Ciclismo, questi uomini con un vantaggio minimo però nei confronti del gruppo che come è avvenuto anche in precedenza, quando vede un tentativo di fuga abbastanza numeroso cerca di chiudere immediatamente nei confronti di coloro che provano ad evadere dal plotone, quindi una situazione sicuramente non favorevole a coloro che stanno provando ad uscire dal gruppo ma vedremo se le cose cambieranno negli ultimi giri, nel frattempo ci lasciamo sfilare il gruppo dei partecipanti adesso in lunghissima fila indiana, andatura davvero molto sostenuta in questa seconda fase di corsa, vi ricordo in totale 25 giri per un totale di 80 chilometri per quanto riguarda questa terza edizione del circuito della Riviera Puana, Memorial, Renato Pardini, ancora un passaggio in rettilino di arrivo con tre atleti che si sono leggermente avvantaggiati, il dorsale 48 si tratta di Corzini con il numero 36 invece è Morelli poi invece a fare l'andatura con il 126 Michael Comin della Borgomolino Rinascita Ormelle siamo al termine del rettilineo di arrivo la svolta a destra che ci rimette nella lungo rettilineo in uno dei due lunghi rettilinei che caratterizzano questo percorso ed il terzetto alla comando adesso pancia a terra per cercare di guadagnare qualche metro nei confronti del gruppo che ha perso un 150-200 metri nei confronti di questo terzetto si porta adesso al comando Filippo Morelli della PT Shoes Ciclita Day porta colore della formazione diretta da Primo Mori adesso arriva anche con il dorsale 48 Tommaso Corzini del Team Work Service Romagnano con il direttore sportivo Matteo Berti invece il dorsale 126 la maglia è quella della Borgomolino Rinascita Ormelle e Michael Comin la formazione veneta alla via quest'oggi del circuito della riviera Apuana memoria all'arenato Pardini si avvicina però il gruppo che non lascia molto spazio al terzetto alla comando e anche in fase di arrivo allo sprint le formazioni più attese sono sicuramente la Borgomolino Rinascita Ormelle lo Stabia Ciclismo e la Contri Autozai queste sono almeno sulla carta le formazioni che dovrebbero essere favorite in caso di arrivo allo sprint vedremo se sarà così vedremo se ci saranno dei colpi di mano nell'ultimi giri di corsa per il momento il terzetto non sembra guadagnare molto anche se adesso potrebbe dare nuova linfa il rientro da parte di Leonardo Volpe della Contri Autozai ma il gruppo è davvero a pochi decine di metri dagli uomini al comando che adesso sono diventati in quattro infatti a Comin, Corzini e Morelli si è aggiunto anche Volpe il gruppo però rimane poco distante vedete anche Piero Germelli che svolge il servizio di radioinformazione in corsa e che al fianco anche dell'organizzazione con la sua azienda la Cervaiolo Imballaggi quindi davvero massimo impegno per i fratelli Germelli con Stefano e Piero presenti entrambi quest'oggi avete visto che è rientrato anche Arzà protagonista in precedenza di un bel tentativo di fuga solitario quindi si va man mano infoltendosi il gruppo degli uomini al comando ma a questo testimonia anche che il plotone è davvero molto vicino e praticamente basta per un atleta fare uno schiatto per riportarsi sulla testa della corsa Leonardo Volpe fa l'andatura mentre è rientrato anche Andrea Sturaro della Team Work Service di Romagnano quindi sono in 7 al comando ma praticamente non c'è grande possibilità per loro perché avete visto bene anche dalle immagini in precedenza il gruppo è vicinissimo dicevo sono in 6 al comando non 7 con Arzà, Volpe, Morelli quindi abbiamo Corzini, Sturaro e Comin questi 6 uomini al comando ma il gruppo è davvero vicinissimo praticamente un plotone che ha già messo nel mirino gli uomini al comando quando ci apprestiamo ormai ad un nuovo passaggio in zona traguardo i giri che man mano vengono affrontati dagli atleti la media che si alza giro dopo giro al termine della prova sarà superiore ai 45 km orari quindi un'andatura molto sostenuta che fino a questo momento non ha permesso agli atleti a coloro che hanno tentato di evadere dal gruppo di farlo con successo ci stanno provando in 6 adesso ma non sembrano avere via libera da parte del plotone si tratta di Sturaro e Corzini della Team Work Service di Romagnano Morelli della Pitti Shoes ed ancora Comin della Borgomolino assieme a loro anche Volpe della Country Autozai ed Arzà della Casano questi 6 uomini al comando attendiamo il gruppo che però praticamente è vicinissimo e si sta riportando sulla testa della corsa quindi possiamo parlare sostanzialmente di gruppo compatto quando siamo nelle battute finali del terzo circuito della Riviera Puana Memorial Renato Pardini ancora il gruppo compatto che fa capolineo in questo rettilineo ma è cambiata la musica come si suola dire infatti si sono schierate le squadre dei velocisti vedete le maglie della Casano quelle dello Stabia Ciclismo con veri e propri treni che stanno ormai approcciando la finale qui vedete con il dorsale 17 Alessandro Venturini che va a sprintare per ovviamente il passaggio dal traguardo volante siamo a 5 giri dalla conclusione quindi gli ultimi 15 km di corsa con lo Stabia Ciclismo che tra le varie formazioni addette alla volata quindi abbiamo ricordato anche la Borgomolino e la Contra Autozai è la squadra che si è presa per il momento per prima l'impegno di tenere compatto il gruppo attenzione comunque anche ai ragazzi della Nazionale Italiana presenti in 4 quest'oggi Baroni, Cretti, De Cassan e Zambanini e anche ai ragazzi del Casano che hanno fatto molto bene fino ad ora vedete Lorenzo Bertolini era a tirare il gruppo fino a qualche istante fa quindi vedremo se cambierà qualcosa in questi ultimi 15 km di gara arrivano anche le maglie della Contra Autozai quindi le formazioni dei velocisti si stanno pian pianino portando sulla testa del gruppo gruppo che come vedete sostanzialmente è ancora numeroso e forte di tutti e 98 gli atleti al via pochissimi i ritiri in questa fase di gara vedete con il dorsale 67 il tentativo di allungo di Mattia Veneziano della Big Hunter Beltrami TSA Sianese si porta su di lui Federico Conti del team Franco Ballerini ma praticamente si porta su di lui tutto il gruppo che continua a viaggiare compatto ed in questa fase torna ad occupare una buona parte della serie stradale torna a scendere l'andatura in testa al gruppo ma le squadre dei velocisti a differenza di qualche chilometro fa si trovano adesso tutte nella prima parte del plotone e quindi si stanno preparando a quella che è verosimilmente l'epilogo più scontato o quello di un arrivo allo sprint il gruppo che ritroviamo ancora una volta compatto a poco più di un giro dalla conclusione quindi ci stiamo ormai davvero approcciando all'epilogo di questa prova c'è un tentativo di allungo si tratta del dorsale 34 vale a dire Gabriele Del Corzo della PT Shoes Ciclita Day prova il tentativo da finissere mancano sì ancora 5 km alla conclusione quindi ancora tanta la strada da percorrere in caso di arrivo in solitaria in caso di colpo di mano da finissere ma ci prova comunque il portacolori della PT Shoes Ciclita Day rialza l'andatura rilancia l'andatura si alza sui pedali il ragazzo caratterizzato dal dorsale di gara numero 34 vediamo alle sue spalle il gruppo pilotato adesso dagli uomini della Contra Rozzai quelli della Stabbia nelle prime posizioni quindi dicevamo finalmente le formazioni dei velocisti con la Contri in forza nelle prime 4-5 posizioni presenti anche gli uomini della Borgomolino Rinasci Tormelle insomma ci sono tutti coloro che dovevano essere i grandi favoriti della vigilia tutte le formazioni più attese vedete il treno dello Stabbia sulla destra dei teleschermi mentre sono in due i portacolori della Team Work Service Romagnano ci avviciniamo sempre di più al suono della campana e quindi al successivo epilogo della corsa che ormai si avvicina sempre di più è stata come da previsioni una gara molto molto veloce nella quale i velocisti hanno cercato di controllare i vari tentativi di fuga e adesso a poco più di 3 km dalla conclusione abbiamo un gruppo compatto che è lanciato ormai verso un inevitabile arrivò allo sprint alla termine di questa giornata corsa ai 45 km di media oraria ancora 5 curve la curva che ci mette nel rettilineo finale poi la curva le 4 curve finali dell'ultimo giro sono ancora gli uomini della Contra Autozai nelle prime posizioni quando stiamo per far capolino nel rettilineo finale dove suonerà la campana sarà esposto il cartello che segnala all'inizio dell'ultimo giro il gruppo compatto lanciato verso l'arrivo allo sprint a questo punto scontato arrivo allo sprint perché davanti il ritmo era davvero troppo elevato per poter tentare l'allungo da parte di qualche atleta quindi gruppo compatto alla suono della campana e noi ci prepariamo a gustarci questo sprint a ranghi compatti che quindi non delude le attese degli sportivi presenti doveva essere volata e volata sarà al termine del terzo circuito della Riviera Apuana a primo memoria la Renato Pardini tutto è pronto per l'epilogo di questa manifestazione dopo 80 km di corsa saranno i centimetri a decidere il vincitore quest'oggi sarà un arrivo allo sprint come dà a tradizione al termine del circuito della Riviera Apuana lanciata la volata con le maglie della Borgomolino rinascita Ormelle in testa lo vedete lanciato fortissimo Peric Peric ancora in testa attenzione alla rimonta del compagno di squadra ma è Peric che va a vincere davanti al compagno di squadra Portello terza posizione per Zorzan quindi della lunga Zambanini Fiaschi Benedetti Comin Cappelli e Tosin in decima posizione vittoria per Vojslav Peric della Borgomolino rinascita Ormelle davanti al compagno di squadra Alessio Portello terza posizione per Federico Zorzan della Contri Autorzai Vojslav Peric vince la terza edizione del circuito della Riviera Apuana bello successo bel successo di squadra sì assolutamente bel successo di squadra siamo riusciti a cavarcela così anche se non avevamo molti uomini abbiamo fatto la corsa al momento giusto e penso si sia visto un primo e secondo molto importante sia per me che per tutta la squadra una volata che avete pilotato molto bene siete entrati nelle prime posizioni nel rettilino finale però tante squadre volevano avere la vostra posizione gli ultimi giri sono stati ricchi di battaglia ma sì le squadre principalmente si sono sfidate prima dei 10 km dall'arrivo quindi era un po' un po' uno spreco di energia noi siamo stati sulle ruote io sono uscito 50 metri prima dell'ultima curva e sono riuscito a ottenere anche i 300 metri finali e siamo arrivati in parata a mani alte io e Alessio Alessio Portello secondo classificato completa il successo della Borgomorino di nascita al Melle un'arrivo in parata così non poteva andare meglio sì è andato benissimo sia per me che per il mio compagno che per tutta la squadra l'abbiamo cercata la vittoria sapevamo che eravamo tra i favoriti abbiamo fatto la corsa e è andato bene Federico Zorzan a terzo classificato oggi vi siete battuti tutta la corsa con i tuoi compagni di squadra sempre nelle prime posizioni nel finale gli uomini della Borgomorino però vi hanno messo nel sacco sì abbiamo corso bene insomma eravamo in sei qua abbiamo corso tutti bene sempre davanti prima dell'ultima curva eravamo in testa però quelli della Borgomorino sono stati più scaltri e ci hanno passato prima la curva e sono riusciti a prendere la volata in testa Gianni Lorenzetti presidente della provincia di Massa e Carrara sindaco di Montignoso non è voluto mancare a questa giornata in ricordo di un personaggio che per il ciclismo e per lo sport a Montignoso ha fatto tanto come Renato Pardini sì non sono voluto mancare in questa occasione ovviamente la mia vicinanza sempre al mondo dello sport è fondamentale credo che dobbiamo ripartire da lì semmai ci siamo fermati comunque lo sport rappresenta per l'Italia per i ragazzi per i giovani un punto un traguardo fondamentale Renato Pardini è stato un personaggio che ha diffuso a Montignoso la cultura dello sport in bicicletta e questa passione straordinaria che ha tramandato la figlia di cui ovviamente Maria e tutti conoscono nel mondo del ciclismo e quindi un testimone che viene consegnato nell'interesse della collettività nell'interesse dello sport Fabrizio Pardini bella iniziativa questa in ricordo di tuo padre con tanti giovani provenienti da tutta Italia tanto spettacolo una bella giornata di sport allora una bella giornata siamo contenti della partecipazione di tutti che hanno partecipato alla nostra corsa molto probabilmente ci sarà un seguito a questo e ricordo il mio papo che ha dato tanto e tanti anni di spazio a questo sport che amava così tanto anche noi purtroppo purtroppo nel senso che andiamo in bicicletta anche noi e soffriamo tutti i giorni per la stessa cosa in questo momento ricordiamolo e come lo ricorderanno tanti di coloro che sono in questo momento qua che ci guardi da lassù e ci dica una bella parola per quello che è successo e per quello che abbiamo fatto Luca Verona il gruppo sportivo Bezziglia Puano recupera una tradizione quella dell'antipasto alla trofea Buffoni con il circuito della riviera Puana e lo lega al ricordo di Renato Pardini una bella iniziativa per ricordare un uomo che ha dato tanto allo sport del ciclismo sì certamente appena ci hanno ci hanno detto se volevamo fare questo trofeo proprio in memoria di Renato Pardini non abbiamo detto di no io devo ringraziare i miei collaboratori settimo in prima persona la Maria tutti il proprietario del Baroasi che ci ha prestato la sede organizzativa della manifestazione e cosa devo dire Renato era una grande persona un grande direttore di corsa e ci mancherà ci mancherà perché era una grande figura nel territorio di massa era veramente una grande persona